Bella a tutti da The Game, ben tornato a un nuovo episodio da Bronze to Diamond Come al solito mettete sti like, se no mi ciazzo, e iscrivetevi E vi riporto Rides perché, allora, è un champion secondo me molto complesso e difficile da usare Cioè, più che altro, no, 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 no Ha tanti modi per essere usato, ha tante combinazioni E siccome vi è piaciuto molto, perché ho visto che c'era tante views il video E non ho potuto piccare le Blank perché era vannata Sì ragazzi, ho comprato le Blank, quindi appena posso ve la porto Ho deciso di provare a portarvi Rides di nuovo Anche perché avevo visto che avevano piccato, tipo, Lucian e Garen Dico, beh, Rides ci sta contro questi 2B Beh, in realtà no Avevo visto solo Garen, in realtà E dico, beh, picchiamo Rides così a random, proviamo E invece ragazzi, hanno piccato V, Vel, Cozz, Suona Questo è pessimo per Rides, perché in teamfight Rides è un champion abbastanza immobile Cioè, c'è il Ghost, sì Ma quando fa la combo che sta ferma è facile da guardare questi ulti Quindi dovete outsmartare i nemici Dovete fare flashing edge su qualcuno e shottarlo E scappare via col surge, perché se no non ce la fate Comunque, comunque, comunque Vediamo un po' come facciamo Facciamo un giro delle maestrie Thunderlord sbagliatissimo su Poppy Ti fa il graspe pezzitto Bloodlast su Shaco sbagliato, come in tutti i jungler E ha pure il flash smite Non so perché, sbagliato Assolutamente ignite smite Thunderlord va bene Qui va bene, Thunderlord ci può stare Blessing ci può stare, Thunderlord va bene E questo... no Assolutamente no Come il fatto di non avere flash su Garen Che è un champion, già normalmente viene caitato tanto Tu in più non gli emetti flash Non può nemmeno fare flash silence e menare Allora, siamo contro Vel'Koz che ci outpusha Quindi giochiamo di anticipo e l'outpushiamo noi Allora, allora Unlucky Comunque, comunque, comunque Con Rise ovviamente cerchiamo di farmare Perfino almeno a prendere un item Però comunque potete Annaggia, oh Fare delle combo di arrasso sul nemico Abbiamo visto che Rise è Raftor Ah, che V è Raftor Ricordatevi ragazzi Con champion, se giocate champion tipo V O Nocturne, ok? Che sia la Q che la E Sono visibili Annaggia Preso quello Expo sì Sono visibili Dalla mappa, soprattutto la midline Cercate di mettervi nel lato opposto Cioè la sopravvissuto Perché se no Cioè se vi fate sputtare così Ok Abbiamo il Marco Dinch Quanto odio Il problema di early game raids è che gli manca il mana Non ha praticamente mana Finché non ha la goccia Le sue combo costano troppo E quindi È un po' un problema Fast early trade Questo pure ne sai l'ho messo Per poco Maxiamo comunque la Q Sì però se ti fa invadere da P Metta Cioè Coshaco si sta facendo invadere Vai via Vai via Vai via Vai via Io non so Ma perché deve morire? Coshaco io non so Come fa a farsi invadere Ormai ti ha preso il blu Che gli dico a questa? Ti stai facendo invadere Coshaco? Rilly cosa? Rilly cosa? Ma stai scherzando? Stai scherzando? Ti fa invadere Coshaco? C'è il bloodlast? Che cazzo ti è saltato in mente? Sei la mente Hai capito Rilly? Con questo abbiamo un bel po' di minion Quindi io proporrei di pushare questa wave Tipo Ecco Missando il cannone ovviamente Eh purtroppo ce l'ha tolti tutti E poi provare a fightarlo In mezzo ai miei minion Però purtroppo ce l'ha pushati tutti E vi Sappiamo che sta Verso la topside Quindi stiamo Da questo lato Ci posizioniamo Porco dince Fastidioso Adesso però è buono andarci Oh porco dince So Buono Ho missato 2Q addirittura La prima vai C'è stava La seconda Non so come ho fatto a missarla Perché era snerato Comunque abbiamo preso un blue Quello prima era un pass rom perché Shaco non ci aveva HP Poteva arrivare il loro mid Come infatti è successo Ho finito il mana Quindi lo inizio a picchiare autoattacchi Boom Incredible Quante mozze ci ha il blue Come al solito non prendo la ulti Io questa l'ho vista da Jezu che funziona come cosa Non prende la ulti fino a che non fa il livello Il livello 11 in cui la può Cioè fino a che non fai il livello A livello 10 Prende il primo stack di ulti Ok è la prima cosa Il primo punto L'hile 11 prende subito il secondo Perché la ulti Ha un range veramente infimo A livelli bassi E quindi In effetti c'è senso il fatto di non prenderla Fino a che non puoi E prendere altre skill per snowfallare meglio Questo in mid lane In top lane invece penso che la ulti Comunque Vi possa essere utile lo stesso Anche se ha poco range Perché Mid lane la ulti la usate per romare Ok la lane è corta Se dovete scappare al gank il jungler Scappate a piedi Invece in top lane Mari state qui Ok il jungler vede che vi inizia a gankare Fate in tempo andare nel cespuglio qui E a partire con la ulti Allontanarvi Quindi In top lane c'è senso prenderla comunque In mid lane invece Approvo Cioè seguo quello che ha fatto Che fa Jezu Boom Wave clear Cattiveria Ho usato pure il flash Per doggiare la cosa Comunque stiamo giocando molto aggressivi Perché Quando sta così avanti What cosa Boom E andiamo back Abbiamo comprato troppe bozze E ce ne rivendiamo due Perché ci servono Ci andiamo a fare il morello feste Le rune decidono i passi Stiamo snovolando Quindi a maggior ragione Ci facciamo il morello Che lì da me ci abbia danno Cioè Sto sciacolo Fino adesso Ho fatto proprio orribile Però è il fatto che ho preso Quel buff Uh Guardate L'1v1 support E 3 sciacolo a livello 6 Oh Incredibile Voices Questo lo perdiamo Quest'altro lo prendiamo Invece Uh Get rekt Annaggia Allontaniamoci Perché ci può Premere Tipo E ucciderci Il che non è Proprio Meraviglioso Nice Buono Ci siamo girati Perché non potevamo Scappare praticamente E oltre a salvarci L'abbiamo pure ucciso E siccome il jungler È lì Cioè è morto Non c'è nessuno Ci può Stoppare Ora come ora Quello che faccio è Pushare pure questa wave Anche se Ho sbagliato skill In modo che perda Altre wave Possiamo anche Iniziare a rommare Volendo Però boh Sta andando così bene La main rank Che Rischiare di rommare Ora Che comunque le lane Stanno andando bene Quindi Non c'è Urgente bisogno Di noi Da qualche parte Possiamo prendere Qualche altra free kill Sulla mappa Ma Beh Quello che faremo adesso Siccome cosa Comunque ci può Uccidere sempre 1v1 Perché ha dei danni Base altissimi Avete visto Cioè lì per poco Non morivo Mi sono salvato Grazie al Come si chiama Dangerous game Quindi io direi Che ora Iniziare a rommare Mari possiamo Rommare top lane Visto che Non ha Le mercury È abbastanza Easy gank Questo è Mad Comunque Tra un po' Lo carico Col cost Spreca la E Lo carico Col cost Comunque Pushiamo fast La prossima wave Andiamo 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 in top lane Porco Dinci C'è Vì in top lane Quindi non ci andiamo Ok Adesso volendo Possiamo caricarlo Appena usa la Q Boom E l'abbiamo caricato Perché non aveva più nulla Con cui Per farci nulla Cioè aveva usato Già la Q Prima Aveva usato la E Quindi non aveva Nemmeno lo slow E quindi Nice Io Sapete Faccio Oh mio dio Brava Brava proprio Brava 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 Poppy Le cose Di raid Se le avevo già spiegate In un altro video Quindi non le rispievo Perché Se volete capire Le skill come funzionano Guardatevi L'altro video Che ho spiegato Tutte le combo Ecc Non c'è senso Che in ogni video Io ripeta Le stesse cose Che ho detto Su Champion Cioè sarebbe noioso Per chi ha già visto Quell'altro video Quindi Vandate a rivedere Quell'altro video Qua vi faccio vedere Solo come gioco Come Come mi muovo Sulla mappa Eccetera Anche se Fino adesso Non mi sono mosso Perché non ho avuto Motive di muovermi Cioè Non è che dovete Romare tutti i game Volete anche Semplicemente Massacrare Il mid-range Avversario Prendere la torre Già Sblood La torre Abbiamo preso Comunque Possiamo anche Pensare I cancare top Volendo Buono Lontaniamoci Iniziamo Andare Una top Line Che rischio Solo che Mi ganchi Non c'è senso Che vuoi fare Non c'è senso Provare a Devare così Tanto ormai L'abbiamo Distrutto Ok se tanka lui Va bene Boom Nice Prendiamoci Questa torre Altro livello Di ulti Ah Il problema mio È che quando Romo Non sto attento La mia mid lane Non dico Quando si muove Eccetera Però Sto concentrato Qua Posso stare Guardare Pure lì Ok Freghiamoci Pure la ciumula Già Ci siamo Allora In realtà La combo Per fare Più danni Sarebbe Fare Q E Q W Q E Q Perché Vi ritorna Up Quella è la combo Per fare Più danni Questo invece Fare E Q Vi dà lo scudo Porco Dince ha preso lui Oppure fare anche E W Q Oppure W E Q Sempre Vi dà lo scudo Se fate Queste due skill Di fila E poi la Q Vi dà sempre Lo scudo E la passiva E la speed Quindi Non lo carico Perché Cioè Di flash Potrei ucciderlo Volendo Però Ha ancora La E Quindi si potrebbe Girà Usare anche Il flash Per una kill Del genere No Nice Peccato che non ho preso il red Mi faceva comoda La ricerazione vita Però va bene Visto che non c'è nessuno Sua mappa Perché Cioè Sappiamo tutti Dove sono gli avversari Ci prendiamo questa torre Perché Sì Graves Garen è top Ci abbiamo Erano i morti in 4 Quindi Ci prendiamo la torre safe Però visto che abbiamo tutti Sti gold E ci manca poco A rilai Ci facciamo un campo Alla giungla Visto che è core item Su sto champion E ce lo portiamo a casa Che dite Porco Gage E ci abbiamo Il nostro rely Siamo 7-0 Abbiamo 147 Minion A 15 Minion Di 16 Che non è male E adesso siamo enormi Cioè Possiamo fare quello che ci pare Perché Abbiamo Siamo Tankosi Tra virgolette Perché abbiamo tanti hp Grazie al fatto che siamo Over livellati Perché quando stai a livello dolce Un avversario è a livello 8 Come v E' ovvio che I danni che vi fa Sembrano di meno Anche perché abbiamo Tipo Anche solo per il livello 200 300 200 hp in più Ok Con 4 livelli di più Siamo 2-300 hp in più Più ci abbiamo pure il rely Io là non ci vado perché sarebbe un 2v5 C'ha senso? Ci allontaniamo anche E aspettiamo qui Che arrivi Che arrivi questa zona Porco d'inch Io ce lo sapevo Guardato Bastardo Non ho la ward E non face check Perché sennò mi silenzia Urca Nice Opla Pusciamo pure questa door Tanto sono tutti sulla mappa Ha senso andare lì? Quando possiamo prenderci una free tower E loro già sono salvi? Ecco Erano salvi Poi Ok Andate a vedere Nice Ho presa un'altra torre Vediamo se riusciamo a beccare Lucian da qualche parte Ma ne vuole il red Eh Lucian Allora Q e Q W Q E avete in nuovo la E up E quindi potete rifare la Q Questa è la combo E fa più danni Q e Q Doppia V Q E qua Ricordatevi che lo Spell Flux Passa Spell Flux A Agli A I nemici vicino a quello che avete colpito Se hanno Se quello che avete Su cui avete tirato la E Era già Urca Quella non ha la ultima Forse vorrei andarmene Boom ragazzi Ah E ce ne siamo andati Comunque dicevo L'E Lo ripeto anche in questo video Si espanne Sia se Uccidete il target Con la E Sia se Era già marchiato Dalla E in precedenza Scarpe Prendo queste Per A parte Il CD Soprattutto per Le Summer Visto Quando usate Flash e Ghost In genere Le scarpe migliori Sono queste E direi Altro CD Ci serve Che hanno loro Non hanno maicresist Niente Andiamo di cattiveria Ci chiudiamo questo Appena possiamo E sti cazzi Boom ragazzi Uno di meno Uno di meno Dai dai Vedi S ancora in tempo Ok adesso ci sono Facciamo Io voglio caricare Ho paura che mi ulti Che mi ulti Se faccio Flash Ho sbagliato a gustare Ma va bene E Blue Spawn Tra 3 2 1 Boom Boom Ho detto Facciamolo E qui Su questo Che l'ho Facciamo un po' Di macello E boom ragazzi Ricordatevi Q E Q W Q E Q Non abbiamo fatto in tempo Perché siamo fiddati Comunque è questa La gomma Oppure se dovete ammazzare Un campo tipo questo Potete fare E Q W Q Per prendere lo scudo No Questa la ulti Non c'è senso Rischiare Di morire Per prendere Qualche kill Over the wall Poi abbiamo Degli item Dato per prendere Quindi Andiamo back Ci chiudiamo L'item Ah ci abbiamo La goccia Perché com'è che stiamo Ah perché stiamo Strafidrati Volendo Visto che hanno parecchio Magic damage E per cappare il cd Potrei fare una vissal Ma Non lo so Non mi convince Preferisco lo zone A sto punto O il ravadon Forse prendo lo zone Giusto per non farmi Overfocusare Perché tanti danni Ce li ho Farmi un ravadon adesso Non è che mi serva Un gran che Questo è un cloud Non me ne faccio nulla Abbiamo preso tutto Io vorrei fare il baron Cioè siamo così Sopra che Vi giuro Con red Puoi fare due baron O due drake Il drake Tu lo puoi fare da solo Cioè fai talmente danni Tanti anni Eq Adesso ne faccio Una eq Faccio Così prendo lo scudo 600 danni Fai Oh 600 danni Con ogni combo Faccio questo Prendo lo scudo Perché pensavo Mi ultassi Invece no Ok Questo è morto Ci prendiamo Il limite A raffredd Questa è la combo Mezzana di danno Fare Q W e Q Ve la ricordo Partite sempre Con la Q Se potete A meno che non stanno Proprio Out of range Ok Stanno proprio all'estremo Che dovete per forza Fare una W prima Eccetera Cercare di fare sempre La Q prima Chiudiamo Adesso farò voltare Gli flash addosso E lo uccido Non ho ancora Lo scudo Purtroppo No no C'è che C'è Ho sbagliato Ho sbagliato Non ho Lo scudo Boom Ragazzi Ti riempallo Sul minion Ah quanto mi piace Andiamo Quanto mi piace Rizer Ragazzi Cioè se lo usate bene Vi dà delle soddisfazioni Che poi Quando ve fidate Fate i macelli Cioè Ne faccio la zonia Ma si dai Andiamo per la Safeway Tanto siamo così Fiddati che Non ci serve Il ravadonna Per buonittare I nemici È meglio Quando siete così Fiddati E fate danni E ne fate tanti Mettiamolo qui Facciamo Vi conviene Farvi Un item Per evitare Che vi focussino Troppo Perché voi Sarete il focus Primario Dei nemici Dei nemici Eh ragazzi Sto 15-0 Diamond E qua siamo A bronzo Quindi è normale Che mi fidi Facilmente Se lo fanno In due Il baron Oh Io lo lascio Fa così Vediamo di godare Sta via Dai Qui c'è il tuo Eccolo qui Ok ok Abbiamo tutto Dobbiamo Continuare a pushare Side lane Io posso stare a solo Perché Non penso Di poter fare Un 5v1 C'ho la zona Quindi non mi possono Focusare Troppo Pushiamo Questa wave Dovremmo aspettare Gin Ma so Così fidato Che Basta che Proteggano me E vinciamo Non posso Però stare a solo Così Un flash ult Un boom Questa un boom Factor Qu'è il game Prendiamo Il surge Bella ulti Ciccio Vabbè Noi chiediamo Il game Voglio L'inimitor Voglio L'inimitor Ok Andato L'inimitor Buono Così Nice Ah questa è stata Una win Parecchio carina Avremmo fatto Una caterba Di danni Perché Vabbè Non è facile Usare Rize Ma quando Ci prendete mano Diventate Trovate una cosa Orribile Nemmeno troppi Non abbiamo Fightato Tantissimo Comunque Come al solito Ragazzi Se il video vi è piaciuto Lasciate like Iscrivetevi Condividete C'è Twitch C'è Facebook C'è un sacco E' roba Scrivetemi Nei commenti Champion Che volete Rivedere E bella Tutti La De Game Scrivetevi